Siamo noi la famiglia Hey come state? Nel video di oggi Vittoria si diverte a giocare al gioco delle pulizie Intanto Fedez comincia a pensare a come arredare la nuova casa che ha appena comprato per stare vicino al leone Vittoria Vi lascio al video, buona visione Mamma mia ma che precisione a pulire amore 270 Is it a style? Bravi ragazzi abbiamo fatto un ottimo lavoro con Joab la squadra Andiamo a farci una birra Marromba siamo primi Leo Grandissime novità per lo shop Sono finalmente disponibili nuovi prodotti con nuove grafiche Tra cui la bellissima tote bag pensati libera Istoffa super leggera e comodissima per fare shopping Con abbinata la sua t-shirt esclusiva La borraccia e il beauty case E solo per oggi la spedizione è gratuita Cosa aspetti? Clicca sul prodotto linkato nel video per andare subito nello shop Oppure clicca il link dello shop giù in descrizione Sarà una primavera pazzesca con i nuovi prodotti E tu? Cosa aspetti? Corri a visitare lo shop Se ti è piaciuto il video lascia un like Ed iscriviti al canale Ciao